Una coppia di una coppiata che almeno sulla carta dovrebbe dare grosse soddisfazioni ai tifosi andriesi. Dal primo weekend di luglio la Fidelisandria porta a casa la nuova coppia al timone, il confermato mister Gigi Panarelli e il nuovo direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. Una coppia allestita in settimane di dialogo dalla società che il presidente Aldo Roselli inquadra così. A me fa piacere, nel senso proprio della continuità, che il mister della prossima stagione sia lo stesso della stagione appena conclusa che il mister Panarelli. Quindi assolutamente sì, è importante programmare, ci siamo già mossi, stanno già lavorando, quindi speriamo bene. Definita l'area tecnica, ad Andrea è anche tempo di studiare le manovre per il futuro societario. La fase finale di giugno è stata burrascosa, complice l'assemblea animata dalle dimissioni dell'amministratore unico della Uniti per la Fidelis, Pietro Lamorte. Roselli anticipa nuovi incontri nella prossima settimana. Sono in corso dei dialoghi, sia in termini magari di potenziali nuovi soci, che di persone interessate magari a dare un contributo, un sostegno alla Fidelis attraverso delle forme di sponsorizzazione. Altro capitolo caro alla piazza Andriese, l'ipotetico ripescaggio in C, occorrerà attendere almeno metà luglio per decifrare le reali possibilità della Fidelis di ambire al ritorno tra i professionisti, dimensione smarrita nell'estate 2018. Perché ciò avvenga, occorre l'incastro di una serie di fattori che passa anche dal dialogo con l'amministrazione comunale. Se eventualmente ci fosse la possibilità sicuramente noi la valuteremo, ma diciamo che le componenti in campo però non siamo soltanto noi, c'è anche il comune che dovrebbe fare poi degli interventi di ristrutturazione all'ostrutturazione. L'impianto di illuminazione, seriolini e panchine. Bisogna capire, vedere un attimo quale sarà la situazione in Lega Pro delle società che non saranno ammesse al prossimo campionato. E poi vedere bene le gradatorie, vedere poi di quelle società che partecipano, che sono comprese nelle due gradatorie, vincenti play-off, perdenti play-off, chi magari non ha lo stadio a disposizione. È tutto da verificare. Di certo c'è che il focus è sulla Serie D, campionato che nell'annata 2020-2021 ha visto i bianco-azzurri fermarsi solo in finale play-off. Da lunedì si procederà alle prime conferme in organico con un'agenda intensa da affrontare. In questo momento sono solo colloqui. Poi vedremo se si concretizzeranno o rimarranno solo colloqui. Si sta lavorando, si sta lavorando parecchio.